good morning guys scusate le occhiaie ma mi sono appena svegliato ho anche la voce da tranzone sono andato a prendere noise però prima vado al lavoro e poi mi incontro con gabriele non vi ricordate chi è gabriele è il mio iscritto che ho incontrato e se non ve lo ricordate qui sopra il link in descrizione per poter rivedere il video intanto prendo noise e poi si parte rimettere il casco è sempre una grandissima gioia perché preannuncia un giro in moto bene 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 certo che ancora fa freschino la mattina eh zio boia minchia se fa freschino stamani porco mondo boia bestia che fresco esco dal canone del letto non ero preparato psicologicamente a sto freddo ok turnica brava brava turnica ecco il mcdonald dove sono tornato a lavorare mcdonald di barberino del mugello per ora la moto non la lasciamo fuori andiamo a parcheggiare di sotto ben ben al chiuso e visto che ci sono mi preparo già al lavoro quindi già giro queste brava grazie bia 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 oddio non c'ho più fisico per fare queste cazzate ma chi c'è no c'è il mio vecchio direttore ragazzi io vi saluto ci vediamo oggi quando arriva gabriele ciao ragazzi ciao ragazzi ecco tornati gabriele è qui davanti da qualche parte non so dove ti hai capito tutto tu sei maniche corte cazzo io so con la giacca ecco la mia bella noise hai un sound bello cupo mi piace bisogna subito fare la sosta benza 8 era l'8 si 8 vediamo di non buttare la benza fuori e ovviamente ho buttato un po' di benza e pochè arriva oh bellezza ragazzi oggi giornata veramente divertente perché vado a rifare un passo che da un po' di tempo che non faccio dall'anno scorso mi sembra se non erro e che bello lo rifaccio in compagnia insieme a gabriele è il terzo video che porto insieme a qualcun altro qui in questo canale il primo era dalle colline al mare sempre qui sopra il link è in descrizione e l'altro era il giorno del compleanno di Mirko qui sopra il link del video il passo della consuma e ora ci vorrebbe una gran bella canzone rock di sottofondo per godersi questo video questo momento iscriviti al nostro canale iscriviti al 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 canale